Ciao ragazze e benvenuti come sempre al topo della settimana più gli usati sempre in collaborazione con Federica Derry Bruno qui su youtube come sempre vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare il video in collaborazione con me inizio subito col farvi vedere i prodotti perché questa settimana per quanto riguarda la categoria usati ho riscavato un pochettino di prodotti dalla cassettiera quindi non mi voglio perdere in chiacchiere inizio subito col mostrarvi i 5 prodotti top della settimana inizio con questo correttore qui perché già ve l'ho mostrato nel topo precedente ed è il correttore della Skinfood che tanti di voi mi hanno chiesto dove l'avevo preso l'ho comprato su Ebay da un venditore coreano il nome del venditore lo devo andare a cercare nel video dove ve lo mostro di tutti gli acquistini che ho fatto vi prometto che vi scrivo il nome del venditore perché è affidabile io già l'avevo acquistato da un altro venditore sempre su Ebay non mi è mai arrivato la mia amica che questo correttore qui lo utilizza da anni gli ho chiesto la cortesia se me lo potevo ordinare dal suo venditore e mi è arrivato in 10-12 giorni se non erro ha un costo di 7 euro e 12 grammi di prodotto ed è questo correttore qui salmonato diciamo io ho preso la colorazione più scura perché fa due colorazioni la 01 e la 02 questa è la 02 ed è quella che mi vedete su praticamente ed è fantastico davvero distende proprio il contorno occhi vedete fa un effetto perfetto un effetto riposato un effetto radioso al viso mi piace davvero tanto perché è anche illuminante non lo so è davvero fantastico nutre a fondo la pelle l'unica nota negativa diciamo che ho riscontrato di questo correttore qui è che vi lascia diciamo un pochettino non un ticcio un po' diciamo un ticcio il contorno occhi perché è davvero molto molto idratante io comunque lo vado a tamponare su con una cipria ma non ho viato diciamo a questo problema ma per chi ha una pelle davvero super 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 secca glielo consiglio perché secondo me risolve anche il problema del contorno occhi secco perché è proprio super super idratante infatti se io vado comunque a toccare mi rimane un pochettino un ticcio l'oleosetta diciamo la mano però fondamentalmente non me ne frega la mazza perché è fantastico copre benissimo illumina cioè vedete comunque ha un bellissimo effetto sul viso mi sta piacendo davvero tantissimo poi il secondo topo di questa settimana qui è questo ombrettino della Bo ed è un ombrettino biologico di una marca biologica con cui ho collaborato tipo un anno fa ed è praticamente il classico color caramello adatto per qualsiasi tipo di trucco potete utilizzarlo davvero con qualsiasi trucco nello sfumone per fare la gradazione di colore della sfumatura o anche a solo vedete come ho fatto io oggi però questa è un'altra tonalità di caramello poi vedrete cosa ho utilizzato per questo trucco comunque io lo adoro è scriventissimo vedete fa impressione ed è una marca bio questa Bo Cosmetics non so dove la potete trovare però questo ombretto raga è fantastico secondo me è un must have perché davvero lo potete utilizzare per qualsiasi tipo di trucco cioè io lo sto adorando lo utilizzo davvero tutti i giorni è super scrivente ne basta davvero pochissimo e questo qui è il 107 Cien non so se si vedrà mai con questa luce comunque fidatevi è il 107 Cien e questo è lo swatch è davvero stupendo praticamente è uguale, identico al color caramello della palette di Mulac della Sindina che sta andando tantissimo io se avevo qualcosina da parte me la prendevo perché è davvero stupenda però finanza è 0 a 0 quindi pazienza desisto poi altri prodottini top sono terzo prodottino top è la matita contorno occhi di Wicon che a questo giro sto utilizzando per le sopracciglia praticamente fermo prima le mie sopracciglia con questa matita cerosa e poi vado a lavorarci su l'eyeliner per sopracciglia per sopracciglia di Wicon questa settimana ho fatto un esperimento poi ve ne parlerò dopo quando vi mostrerò il prodotto e devo dire non mi dispiace come coda comunque la sto utilizzando per le sopracciglia mi piace tantissimo perché vedete fa proprio l'effetto tattoo non si muovono proprio queste i peli diciamo mi sta piacendo davvero tantissimo costa un 4,90 euro ma secondo me è un prodotto must have della Wicon cioè è davvero ottima sia come base labbra ormai ve l'ho fatta vedere fino a vomitare questa matita ma anche per le sopracciglia poi altri due prodottini top sono gli ultimi due tra l'altro allora un rossettino matte della Collection Professional che ho utilizzato davvero poco perché questo colore diciamo è molto molto estivo infatti l'ho preso ad utilizzare ed è l'11 della linea matte della Collection ed è un colore stupendo un fucsia con una punta di rosso davvero bellissimo e dura davvero tanto molto molto confortevole sulle labbra sapete cosa ne penso dei rossetti della Collection sono davvero fantastici ed è il numero 11 se vi può diciamo interessare questo qui è lo sbozzo è un fucsia con fucsia ciclamino particolare cioè dalla webcam sembra un rosso rubino ma è un bellissimo fucsia bello sparafresciato molto molto estivo davvero bellissimo poi come ultimo prodotto c'è il fondo della Collection Professional che non avevo utilizzato diciamo in questo periodo perché comunque fa caldo io sto continuando ad utilizzare i fondi perché non sono andata un fottusissimo giorno a mare e quindi praticamente non ho colore cioè si rispetto diciamo dalle altre persone ho una carnazzone diciamo olivastra quindi sembra che sono andata a mare ma in realtà non è così e comunque sto continuando ad utilizzare i fondi perché mi sento che ho la faccia bianca non mi piace quindi ho provato questo qui della Collection e pensavo che lo accusavo nel senso che sudavo perché è pesante invece devo dire la verità no è molto molto leggero si fissa bene ha un'ottima ottima durata e questo qui è il fondo fluido 24 ore della Collection Professional ed è lo 00 se non erro la tonalità più chiara che adatta a me quindi fate bene i conti nel senso se siete molto molto chiare questo fondo qua non vi ho infatti me l'ha regalato la mia amica Carmela del canale Non Fashion & Beauty che saluto ciao Carmela e a lei che comunque ha una carnazzone diciamo molto molto chiara più scuro perché è la tonalità più chiara quindi valutate bene voi quale se vi conviene prenderlo o meno al limite lo miscelate con qualche altro fondo che avete e come topini della settimana abbiamo terminato adesso vi faccio vedere cosa ho utilizzato allora visto che vi ho parlato prima dei fondi l'ho alternato sempre a questo qui della Rimmel il Wake Me Up di Rimmel semplicemente perché vedete lo voglio terminare e anche perché comunque mi piace è un fondo leggero che ne ho parlato nel topo precedente non mi voglio ripetere ve lo mostro solo perché comunque è un prodotto che ho utilizzato poi per quanto riguarda gli ombretti vi faccio vedere allora due tre palettine allora vi rimostro sempre la O'Naturel di Sleek perché in questa palettina cioè io adoro follemente ma nella maniera più assoluta il colore Honeycomb cioè io lo amo ed è questo colore che praticamente è quasi finito lo adoro e praticamente ho utilizzato molto spesso questo colore qui per uniformare la palpebra poi ho riscoperto diciamo dalla dal cascettone dalla cassettiera questa palettina qua sempre di Sleek la Respect Palette che ho utilizzato davvero pochissimo ed è questa palettina qua che sul sito di Sleek la potete trovare infatti il trucco che mi vedete su che è statosissimo diciamo cioè veramente niente praticamente non ho su nulla ho fatto questi ho utilizzato questi tre colori uno due e tre allora c'è un color panna questo color caramello rosato molto molto bello e questo begiolino che l'ho utilizzato per non creare lo stacconetto diciamo fra la palpebra fra diciamo fra l'arcata sopra azziare e la sfumatura per non creare lo stacconetto tra questo rosa caramello e il bianco illuminante dell'arcata sopra azziare ci ho sfumato questo begiolino chiarissimo come potete vedere e l'ho ripresa ad utilizzare questa palettina qua perché in verità me l'avevo proprio scordata poi mi ricordavo che aveva questi colori qui e ho detto ma utilizziamola perché come potete vedere è quasi nuova cioè veramente l'ho utilizzata buonissimo ed è molto molto bella e quindi l'ho utilizzata per questa settimana e ci ho creato qualche look io poi che mi conservo poi tutte le cosettine comunque per chi ha questa palette ho utilizzato chalamar count basi beige e motom mink comunque questi tre colori qui uno due e uno due e tre ma ora sembra un'abbonata raga allora e abbiamo finito con queste palettine di slick poi sempre come diciamo come uniformante per la partebra come ombretto uniformante per la partebra ho utilizzato Sara se non erro si chiama questo qui della Africa che sembra bianco ma in realtà è un beige molto scrivente anche lui e l'ho utilizzato in questi look tipo tipo pinà mi piace mi piace molto e ovviamente ho utilizzato moltissimo con l'ombretto questo ombretto qui che ci sfumo o ci sfumo solo questo per dirvi o ci vado a mettere una puntina di marrone ed è stupendo questo look così non lo so sto in fissa con questi look diciamo naturali mi piacciono molto e anche perché sono sbrigativi perché comunque ho caldo raga non ce la faccio se mi vado a schiaffare ombretti eyeliner e compagnia cantante veramente faccio la fine della scrofa nel senso che sudo come un maiale e quindi nulla comunque vi volevo dire ieri ho fatto questi capelli veramente poco professional raga poi nel video dei prodotti finiti mi avete fatto i complimenti sui miei capelli con l'ondulazione e cosa praticamente non è niente veramente non è niente persino un'impedita come me è riuscita a farli così se vi può interessare vi faccio una sottospecie di tutorial poco professional e me lo lasciate giù scritto nei commenti anche perché sarà molto difficile e complicato per me girare un tutorial sui capelli e quindi se vi può interessare senza calore senza nulla ma semplicemente arrotolando i capelli in un certo modo escono i capelli così io praticamente li ho solo asciugati un pochettino con il phone e poi sono preso ad arrotolare in un certo modo e ho preso spunto sempre da pinterest o pinterest come si dice e devo dire che l'effetto mi piace molto sarà l'effetto dell'estate nel senso io mi asciugo i capelli me li arravoglio aspetto qualche ora e i capelli escono così diciamo anche perché hanno una bella un bel effetto non mi posso lamentare non sono orribili poi non mi vuoi perdere in chiacchiere vi faccio vedere 3 blush ed ho utilizzato questo qui di questa edizione limitata di Kiko che non mi ricordo qual è onestamente ed è lo 02 rich rose molto molto bello per chi ce l'ha riscavatelo io lo adoro eccolo qui questo bellissimo color mattone poi ho utilizzato sempre lui questo qui della essence della linea cookies and cream che è un bellissimo corallo stupendo questo blush ed è una scrivenza paurosa poi ha queste perlescenze che illuminano il viso troppo troppo carino e poi ho riscavato dalla cassettiera questo blush della Sorme che è una marca americana mi hanno dato l'anno scorso in fiera ed è bellissimo vi faccio vedere praticamente tiene tutti queste micro perlescenze che una volta sul viso ha un effetto stupendo questo è il blush molto molto luminoso e per quanto ho capito questa eccolo qua per quanto ho capito quest'anno questa marca arriverà in Italia mi ha spiegato la responsabile marketing quest'anno in fiera perché mi sono andata a comprare il matitone per le sopracciglia e mi ha spiegato che questo marca arriverà in Italia quindi sono super super contenta perché è davvero un ottimo ottimo brand poi cosa ho utilizzato allora questo color tattoo qui per le sopracciglia perché giorni fa non so da chi l'ho letto ah no da Ornella da Ornitorella l'ha scritto su Facebook che è una ragazza che aveva consigliato di utilizzare questo ombretto qui color tattoo per le sopracciglia in verità pensavo che mi faceva l'effetto vecchia nel senso che mi facesse le sopracciglia grigie in verità non è così io comunque voglio sfumo un colore più scuro perché comunque cioè io ho i capelli scuri non posso mettermi vedete c'è una differenza abissale quindi io comunque ci sfumo l'eyeliner di Wycon però devo dire la verità è molto molto buono perché è biondina che i capelli un po' castani più chiari secondo me lo può sfruttare questo prodotto anche per le sopracciglia perché resiste al caldo non si scioglie si stende diciamo abbastanza bene io comunque ci metto sotto la matita cerosa in modo tale che i prodotti che ci andate ad applicare su alle sopracciglia si stendono anche meglio e devo dire la verità è un'ottima alternativa perché io questo pen pot magari questo ombrettino qui di di meblin non lo sfrutto tanto cioè è carino però in estate comunque non andrei a sfruttare per il colore quindi ho deciso di utilizzarlo in questo modo ed è il classico pen pot permanente il 40 cioè reperibilissimo in ogni dove poi ho utilizzato questo mascarino qui della meblin quello lì famoso che tengono le americane cioè a me fa cagare infatti lo uso quando metto le cia finte per amalgamare tutto ma niente di che perché si scioglie non serve una minchia questo questo mascara però lo tengo quello devo usare questo correttore qui della collection professional perché mi piace subito perché mi piace in quanto si asciuga subito non va nelle pieghette ed ha un'ottima ottima attenuta ed è il correttore liquido numero 03 classic beige della collection professional l'unica pecca è il quantitativo di prodotto che c'è all'interno perché ce n'è pochissimo poi la mia classica matitina burro per la rima interna della Yamamai ed è la 16 non si vede una minchia la luce non me lo permette comunque è la 16 raga e poi ho questa tinta qui della Catrice che è un bellissimo colore ed è di una edizione limitata la Thrilling Me Softly Wet Shine Stain ed è un long lasting lip liquor nella colorazione 01 innocent per chi ce l'ha riscavatela perché in questo periodo è troppo troppo carina fa un effetto bagnato davvero molto molto bella vedete si somiglia moltissimo con il rossetto della collection davvero molto molto bella e dura tanto devo dire la verità e non è appiccicosa se ci vanno i capelli su non rimangono appiccicati ed è una cosa che a me piace perché io non utilizzo molto luce da labbra seppur mi piacciono io tengo questo gloss qui questa lacca per labbra qui perché sto a casa ma già se esco non me la metto perché la folata di vento mi si appiccicano tutti i capelli in bocca e mi da fastidio atroce e quindi questa qua la uso perché non mi fa questo problema qui diciamo e niente ragazze i prodotti sono finiti io vi mando un bacione fortissimo mando un bacione fortissimo a fede madonna santa che calore e ci vediamo prestissimo al prossimo video ciao ragazze